Le Iene, ecco perché Teo Mammuccari era assente. A Le Iene, sono Teo Mammuccari e Belen Rodriguez al timone dello show, tutti i martedì su Italia 1. La coppia è molto amata dai telespettatori, però nell'ultima puntata andata in onda, era presente soltanto Belen. Quest'ultima ha dovuto reggere il programma da sola. In tanti hanno apprezzato il fatto che lei abbia gestito da sola, la trasmissione con successo. Ovviamente, però, tutti i telespettatori si sono anche chiesti, per quale motivo Teo Mammuccari fosse assente. Quest'ultimo non ha comunicato nulla sui social e non ha anticipato ai telespettatori il motivo della sua assenza. Probabilmente Mammuccari stava cercando di far passare in sordina la cosa, ma ovviamente tutti hanno notato la sua assenza. Per questo motivo in molti si sono domandati che cosa sia successo. Innanzitutto sui social è stata smentita l'assenza causata da problemi di salute. Molti conduttori in questo periodo si sono assentati, come Enzo Iacchetti, per via dell'influenza. Non si è trattato di questo, ma probabilmente ci sono dei problemi con Mediaset, di cui però il momento si sa soltanto qualcosa. Alle Iene, dunque, la grande assenza di Teo Mammuccari si è fatta notare. Le ipotesi si stanno moltiplicando ed in tanti stanno dicendo che le motivazioni potrebbero essere legate al palinsesto del festival di Sanremo. Infatti, Mediaset ha deciso di fare concorrenza al festival, mantenendo intatta la programmazione, senza fare cambiamenti di nessun genere. Per questo motivo, alcuni stanno ipotizzando che Mammuccari sia stato assente, per creare aspettative nel corso delle prossime puntate. In questo modo un numero maggiore di telespettatori sarà curioso, di vedere Mammuccari ed il suo grande ritorno. Altre persone hanno ipotizzato che invece Mammuccari sia stato assente, perché ci potrebbero essere dei problemi con Mediaset. Secondo alcune voci, ci sarebbe maretta tra il conduttore delle Iene e l'azienda. Probabilmente il motivo potrebbe essere legato proprio alla decisione, di fare concorrenza al festival di Sanremo. La cosa è stata interpretata da molti come una sorta di suicidio, poiché i telespettatori guarderanno sempre il festival di Sanremo, essendo un grande evento. Quindi potrebbero esserci dei problemi in questo senso con il conduttore. Per ora però questo è tutto da vedere e bisogna attendere. Per avere ulteriori notizie. Magari sarà lo stesso Theo a spiegare quando tornerà in studio. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi qual è il motivo dell'assenza di Theo Mammuccari e vi aspettate il suo ritorno? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.